buongiorno amiche ed amici di armi tiro ci troviamo a it show allo stand di tfc e siamo in compagnia della nuova arex rex delta la nuova pistola percussore lanciato dell'azienda slovena la arex rex delta è una pistola concepita per uso principalmente militare e di difesa troviamo un fusto polimerico dotato di dorsalini intercambiabili e di bottone di sgancio caricatore e hold open ambidestro cioè presente su entrambi i lati dell'arma il carrello presenta delle fresature di presa frontali e la canna misura 4 4 pollici il peso si aggira sui 650 grammi i caricatori il caricatore ha una capacità di 15 colpi lo smontaggio è molto interessante poiché è simile alla glock ma può essere eseguito senza bisogno di premere il grilletto il prezzo consigliato al pubblico per la arex rex delta è di 589 euro il resto non è assoluto grazie a tutti che c'è c'è Grazie a tutti